segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora stiamo andando verso est buongiorno nella notte ci sono stati ripetuti bombardamenti ma siamo in quello che è un villaggio libero dove i cittadini sono appena alcuni di loro riusciti a tornare solo che moltissime della distruzione speriamo che il collegamento regga che vi posso mostrare questa è la casa del signore che vedete alle mie spalle che sta portando fuori oggetti che sono stati danneggiati questa è una delle aree dove c'è stato un intenso combattimento e stiamo andando verso est tutto lungo una linea che è stata bombardata stanotte claudio e voglio giungervi fermati un secondo ti chiedo se ti puoi un attimo girare perché tu ci hai parlato di un'area di grande combattimento ma quella edificio che alle tue spalle che mi sembra crivellato di colpi ti chiedo è un'abitazione civile insomma ci abitavano delle persone sono abitazioni civili sono tutte questa qua in abitazioni civile quella che vedete in fondo alle mie spalle dove c'è un carmato distrutto è un'altra abitazione civile dobbiamo comunque stare attenti su questo ragionamento che viene spesso strumentalizzato il problema non è in sé il combattimento vicino ad abitazioni civili il problema è permettere ai civili di evacuare quando è in corso il combattimento o addirittura come dovrebbe essere prima lo dico perché spesso è stata strumentalizzata questo elemento i combattimenti in aree urbane accadono il problema è che bisogna dare la possibilità ai civili di defluire e non bloccare lì altrimenti si trasformano ovviamente in scudi umani cosa che qui non abbiamo testimonianza almeno in quest'area non ne abbiamo sentito altrimenti ve l'avrei riportata però abbiamo siamo venuti in possesso di due diari di soldati russi tramite una milizia che combatteva prima a chiev che ora è qua e che ci ha dato insieme ad altri elementi che finalmente posso portarvi e raccontarvi perché ne ho abbastanza di questi elementi il tipo di soldati che è intervenuta in quest'area rispetto a chiev a chiev erano principalmente ragazzini in moltissime aree eccetto irpin e l'area più vicina alla città la capitale qui invece a kharkiv le truppe che sono state utilizzate sono molto più avanzate e professionali cambia anche l'approccio con la popolazione sono entrati abbiamo molteplici conferme che oltre soldati russi a kharkiv nei sobborghi entrarono di contrarono perché alcuni villaggi come sapete sono liberi e le truppe si stanno ritirando le truppe russe sono entrati anche i miliziani delle repubbliche indipendentiste separatiste di lugansk e donetsk ed è proprio lì che i cittadini hanno trovato i maggiori problemi e ci hanno raccontato che seppur le prime truppe russe di invasori erano aggressive non erano però violente e oltransiste come invece hanno trovato poi nei cittadini ucraini delle repubbliche separatiste ok quindi filo russi quindi c'è un di più di testimonianze c'è una di più di odio rispetto a quello così l'abbiamo visto anche in italia certo dopo il 43 no le guerre civili sono terribili perché la crudeltà diciamo aumenta perché si odiano di più che sono più vicini e quindi più vicini si odiano non so sembra un paradosso ma purtroppo non lo è claudio vuoi concludere la tua corrispondenza certo quindi il quadro e la tipologia di persone di soldati che vengono impiegati cambia radicalmente anche l'assetto da battaglia se ci sono state delle ritirate massicce delle fughe anche sconfusionate a chieve sembra sempre più evidente che uno degli elementi umani che più volte è stato discusso è sempre più confermato anche dal campo quella zona era molto diversa è molto diversa da questa la era principalmente ragazzini mandati in buona parte allo sbaraglio eccetto ovviamente i perimetri della capitale e di cernigli qua invece c'erano truppe capaci di attaccare eppure ed è questo il punto si stanno ritirando anche da qua certo è quello che andremo a indagare oggi a 60 chilometri dal punto in cui mi trovo io verso il fiume estremo verso il lugansk allora grazie claudio come sempre le tue corrispondenze sono ricche di particolari che ci aiutano a capire cosa succede davvero sul campo l'essi ha